Una cargo bike è una bici a tre ruote con cassone che può portare qualsiasi tipo di peso Una cargo bike con pedalata assistita è il top per trasportare peso Una cargo bike con pedalata assistita con un impianto audio e pannelli solari è una bomba per tutti i vostri eventi Con il vostro aiuto compreremo quattro cargo bike per quattro aree della città per organizzare feste, eventi e iniziative culturali Abbiamo bisogno di te Abbiamo bisogno di te No, non ci siamo Abbiamo bisogno del tuo aiuto per mettere in piedi la cargo flotta Dona su Produzioni dal Basso, cerca cargo flotta L'Unione fa la flotta